Sicuramente tra i cinque sensi l'udito è quello più fragile e dobbiamo porre attenzione, ci dobbiamo curare del nostro udito. A maggior ragione perché il 3 marzo si celebra la giornata mondiale dell'udito. Allora ci sono tanti luoghi comuni che dobbiamo sfatare, tanti falsi miti, lo faremo grazie ai consigli che ci darà il professor Domenico Cuda. Ben tornato professore, io ricordo, professore straordinario d'Otorino Laringoietria all'Università di Parma e direttore di Otorino Laringoietria all'ospedale di Piacenza. Allora innanzitutto dobbiamo chiarire un concetto professore perché quando parliamo di sordità molte persone, molti di noi, la considerano quasi una patologia, una malattia. Che cos'è la sordità esattamente? È un sintomo, è un sintomo così come l'acufene, è un sintomo di una malattia dell'orecchio e delle strutture della via acustica. Ecco, quindi non è una malattia ma è ciò che produce una malattia dell'orecchio. E tante persone, insomma, ancora si vive come un tabù, no? Il fatto di sentire poco, molte persone anche si vergognano, da cui anche magari tra le persone di una certa età sopraggiunge anche un declino cognitivo. E questo noi oggi lo vogliamo un po', come dire, svatare, anche perché come si portano gli occhiali, no? Si potrebbero partare anche delle protesi talmente tanto piccoli, anche impercettibili. Però dobbiamo capire esattamente, professore, quali sono le diverse forme anche di sordità. Non tutte sono uguali. E fare una diagnosi corretta è anche importante per poi approcciare una terapia. Certo, anche perché non è che tutto si risolva con le protesi acustiche. Ci sono anche tanti interventi chirurgici, tante terapie mediche che si possono fare. Quindi la diagnosi è la prima cosa. Diciamo che sostanzialmente le principali forme di ipoacusia, di abbassamento di udito, sono quelle trasmissive che derivano da un danno al sistema di trasmissione dei suoni, cioè la parte meccanica dell'orecchio, il timpano, la catena degli ossicini. Uno su cinque dei danni acustici è dovuto a queste situazioni che noi possiamo, ripeto, dopo la diagnosi, operare, gestire con terapie farmacologiche. Gli altri casi invece sono sensoriali in cui il danno è creato da questa struttura qui che è la coclea, nascosta dentro all'osso, e lì purtroppo le perdite sono permanenti. Quindi dobbiamo ricorrere, quando necessario, alle riabilitazioni protese. Per cui c'è un mondo davvero. L'importante è fare una diagnosi corretta. Io, ovviamente, sono arrivate tantissime domande, perché quando si parla di abbassamento di udito si scatenano i nostri amici che sono a casa. Io le leggo, professore, la domanda che ci fa Fabrizio, e ci scrive da Imperia e ci chiede sono sordo all'orecchio destro e porto l'apparecchio. Prima o poi avrò problemi anche all'orecchio sinistro? Ecco, questo è un tipico esempio di come si dovrebbe parlare più che di sordità, si dovrebbe parlare di malattie dell'orecchio. Ecco, se noi sapessimo la diagnosi che è stata fatta nel caso di Fabrizio, purtroppo non è sempre così. Allora potremmo dare una risposta più appropriata. Ad esempio, se Fabrizio avesse una malattia di Meniere, potremmo dire che c'è una certa probabilità di avere un interessamento dell'orecchio controlaterale. Se avesse un'otosclerosi, la stessa cosa. Se avesse alcune patologie genetiche di cui conosciamo bene l'evoluzione, anche lì potremmo fare una stima di possibilità che si sviluppi anche nell'orecchio controlaterale. Così è un po' più difficile. Diciamo che però le probabilità non sono elevatissime. Allora, parliamo di diagnosi adesso. Lei ha portato uno strumento che un po' tutti noi lo conosciamo, che è il diapason. A cosa serve, professore? Ecco, sì, io voglio andare un pochino contro tendenza. Chiaramente non è uno strumento diagnostico. Ecco, i cittadini devono sapere che per fare diagnosi di poacusia si fa la audiometria fatta da tecnici specializzati. Però l'otorino spesso si avvale di questo strumentino che grazie ad una vibrazione emette dei suoni. E questi si possono fare alcuni test. Per esempio, uno di quelli più semplici è di metterlo sull'osso qui della fronte o sulla vertice e vedere se il soggetto lo sente al centro o in entrambi là. Ecco, allora faccio io. Per esempio, se vuole il programma... Allora, però possiamo fare una premessa? Sì. Allora, io sono raffreddata. Sono stata raffreddata. Sono 15 giorni che sono raffreddata. Il raffreddore, le congestioni nasali possono influire sulla qualità dell'udito? Certamente, perché blocca la trasmissione dei suoni, l'eventuale catarro o la depressurizzazione che si crea nell'orecchio. E quindi può determinare ovattamento uditivo. E noi possiamo vedere se con il diapason va da un lato o dall'altro. Per esempio, ripetiamo. Lei dove sente il suono in questo momento? Da nessuna delle due orecchie. Mi devo preoccupare. Facciamolo più forte. Da tutte e due. Da entrambe. In maniera similare. No, forse un po' di più a sinistra. Un po' più a sinistra. Un po' più a sinistra. È raffreddata. Sì, a sinistra. Allora, questo è abbastanza... Ho avuto un... È abbastanza normale. Ecco, quindi l'Otorino poi integrerà questo semplice sistema di screening con le informazioni a disposizione. E all'inizio non sentivo bene il suono. Che cosa significa? Probabilmente... No, probabilmente non era stata impressa una... Una vibrazione adeguata. No, perché se no subito... Cioè mi serve una protesi, un apparecchio... No, non si tranquillizzi. Va bene, per cui insomma è questo. E questo può essere una prima indicazione, professore. Sì, sì, sì. Un primo screening per capire se siamo di fronte ad una forma trasmissiva o sensoriale. Ma chiaramente, ripeto, la diagnosi va fatta con i sistemi tradizionali della audiometria erogata da tecnici di audiometria. E questo è importante. Per cui dopo una diagnosi corretta si può approcciare ad una terapia, quella più adeguata proprio per il disturbo che si sta vivendo. Allora, parliamo di apparecchi acustici. Certo. Quando sono indicati per appunto tutti i tipi di sordità, no? Gli apparecchi acustici, ecco, a titolo di esempio, sono i moderni apparecchi acusticici, sono dei dispositivi davvero molto compatti, di tecnologia molto elevata, anche se la tecnologia non deve indurre poi in errore perché non è che con la tecnologia si scavalcano i danni che sono stati creati all'interno dell'orecchio. Però danno dei risultati davvero molto favorevoli. Gli apparecchi acustici sono indicati nelle forme sensoriali o in quelle trasmissive in cui non sia possibile risolvere chirurgicamente la situazione, di entità media o medio-grave, anche in alcune forme di ipoacusia grave. Devono essere prescritti da un medico dopo aver eseguito la diagnosi, è una cosa molto importante, e poi sono applicati, regolati e gestiti dagli audioprotesisti che sono una figura professionale molto importante. Molto importante. Allora continuiamo a rispondere a qualche domanda, no? Perché comunque capita molto spesso, soprattutto alle persone di certa età, di non sentire bene il volume della televisione. Allora, la signora Carmela da Livorno ci chiede, professore, nonostante l'apparecchio non sento bene la televisione, meglio le cuffie, cosa posso fare? Ecco, naturalmente anche qui bisognerebbe comprendere l'entità della severità del danno della signora Carmela. Diciamo che le cuffie sicuramente possono dare un buon risultato, però tendono a fare i solari dal resto dell'ambiente. Quindi sentiamo magari bene la televisione, poi non sentiamo chi ci parla intorno. La cosa migliore sarebbe quella di dotarsi di una interfaccia fra televisore e apparecchio acustico. Esistono degli apparecchi di basso costo che possono far inviare direttamente il segnale del televisore all'apparecchio acustico o alcuni apparecchi possono addirittura connettersi direttamente con il segnale televisivo. Siccome gli apparecchi sono di tanti tipi diversi, i televisori idem, la cosa migliore è che la signora Carmela si rivolga al proprio audioprotesista che potrà dargli il consiglio più adatto. E poi non dimentichiamo, questo nel caso ovviamente delle forme più gravi, che esistono anche i sottotitoli, che sono una cosa molto utile. Molto, molto, molto utile. Però è anche bene dire, professore, che c'è anche un periodo di adattamento. Perché tante persone si scoraggiano. Il fatto che magari non sentono bene con la protesi, prendono e magari si risolgono e non le usano più. C'è un periodo di adattamento? Come funziona esattamente? Soprattutto nell'età avanzata io avverto sempre i miei pazienti che devono essere seguiti dall'audioprotesista poi è di pensare che in un semestre probabilmente si completa questo periodo di adattamento. Quindi pensare che il giorno dopo si senta tutto e perfettamente è sbagliato. Il cervello si deve adattare. Lo fa in alcuni casi molto rapidamente, in altri meno. Dipende dall'età del soggetto, dalla lunghezza della deprivazione uditiva. Perché non dimentichiamo che in Italia mediamente si arriva alla protesizzazione otto anni dopo la comparsa dei primi sintomi. È un tempo troppo lungo. Parliamo di prevenzione. Allora, per l'igiene quotidiana, professore, abbiamo dei consigli. Dobbiamo pulire le nostre orecchie sempre con i cotton fiocche oppure li dobbiamo, come dire, mettere da parte. Beh, visto che siamo nel contesto giusto, il creatore ha creato un sistema bellissimo di pulizia dell'orecchio che funziona da solo. Non c'è bisogno di pulirlo l'orecchio. L'orecchio si deterge da solo. E soprattutto non bisogna mettere nulla nel condotto uditivo perché si blocca questo meccanismo di autopulizia. Basta il dito con un po' di acqua per rimuovere quella piccola parte di cerume che ogni giorno viene trasportata all'esterno. Quindi assolutamente sconsigliato. No, usiamolo per qualche altra cosa, insomma, il cotton fiocche. Magari per truccarci. Può essere utile per truccare per noi donne. Ma a parte questo, professore, molto spesso noi accusiamo la sensazione dell'orecchio tappato, no? Soprattutto appunto in questi periodi in cui stanno girando questi virus pare influenzali, in cui questo orecchio, oppure magari quando prendiamo l'aereo, viaggiamo. Allora, che cosa possiamo fare per togliere questa sensazione? Beh, allora, quando c'è un orecchio che si tappa proprio per meccanismi da pressione, come succede per esempio nella fase di atterraggio dell'aereo, si può fare la manovra che fanno i subacquei, no? Che è quella della compensazione, che si chiama manovra di Valsalva, in cui si tappa il naso, si fa una manovra di questo genere accompagnata quasi da un po' di deglutizione e l'orecchio improvvisamente si apre e riprendiamo a sentire molto. Però, attenzione, perché se la cosa è irreversibile, passeggera, è un conto. Altrimenti se il senso di ovattamento persiste, è bene farsi vedere, perché il senso di ovattamento può avere anche altre cause che non sono assolutamente riconducibili alla tuba e all'orecchio medio. Professore, vediamo gli ultimi consigli, proprio per preservare il nostro udito. Che cosa dobbiamo fare? Anche ci sono magari delle abitudini sbagliate, ecco, come per esempio abbiamo parlato di cotton fioc. Ci sono altri consigli che possiamo dare? Assolutamente. La cosa principale è quella del rumore. I rumori sono nocivi. Quando sono a livello elevato sono nocivi. Quindi, attenzione, quando si fa in locali dove c'è la musica ad alto volume, stiamo lontani dalle casse, non ascoltiamo con le cuffie o con gli auricolari, soprattutto per tempi prolungati, la musica ad elevato volume. stiamo attenti quando ci sono spari, fuochi, spettacoli pirotecnici, eccetera. Quella è sicuramente la cosa più importante. Per cui allontanarsi dai rumori nocivi. Grazie. Grazie di cuore al professor Domenico Cucuta. Grazie per ricevendo questi consigli.